Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questa nuova lezione che vi sta accompagnando, ci sta accompagnando ragazzi insieme alla programmazione di un trading system automatico. Ora andiamo a plottare, ok? Andiamo a crearci il nostro primo grafico, guardate, è semplicissimo. Il primo grafico, che cosa ci andiamo a mettere? Andiamoci a mettere a pl e, esattamente come abbiamo fatto prima, ci andiamo a prendere solo la a pl.close. e qui faccio virgola main uguale main uguale apple a pl, eccolo qui. Ok, dovrei eseguire e guardate qua, vedete? Mi è comparso il grafico, andiamo a zoomare. Vedete il grafico di apple con la chiusura delle candele, questo è un grafico ovviamente a linee, vedete? Va verso l'alto, poi questo è il picco che aveva raggiunto a settembre, dopo il crollo, ce lo ricordiamo tutti, il crollo che da 230 ha portato apple praticamente a 150 del suo valore, l'abbiamo commentato tanto sul canale. Vedete quanto è semplice creare con il metodo plot lo abbiamo creato. Adesso però voglio farvi vedere come andarvi a caricare un grafico a candele, ok? Come mi carico un grafico a candele? Utilizzo candle chart, questo ragazzi è un metodo della libreria plotly, quindi la possiamo usare perché l'abbiamo importata prima. E qui ci metto, guardate, apl, quindi andiamoci a vedere facebook, giusto per cambiare, virgola, quindi app.col, ok? Deve essere, facciamola black e dn.col la facciamo red, rossa e come tema, questi sono i parametri dell'oggetto, facciamo tema white. Andiamo ad eseguirlo, run, eccolo qui, lo vado a zoomare, vedete? Le candele e il candle chart non solo mi permette di creare le candele giapponesi, ma mi fa vedere anche i volumi qui sotto. Vedete quanto è potente? Usare una libreria che qualcun'altro ha scritto per noi vuol dire ereditarne tutte quante le proprietà. Ora voglio solo farvi una cosa, perché è troppo, non si apprezza, vado a cambiare la start date, ok? Quindi qui cambio il get symbol e qui mi vado a far riscrivere, ridisegnare il mio candle chart, che quindi... No, non me l'ha ancora, perché non ho cambiato questo, aspettate, scusate. Get symbol, lo devo riprendere, ok? Ed eccolo qui il grafico, adesso si vede meglio, vedete? Le candele, le candele che sono candele rialziste, sono colorate di nero, le candele rialziste, sono colorate di rosso, questi erano i due parametri, app.col e dn.col, ok? Sono le... come ho scelto il colore. Vedete che il grafico è un grafico a candela, di nuovo ci sono qui sotto i volumi, e vi faccio vedere l'ultima cosa prima di chiudere, ma poi la vedremo bene in un altro video, add sma, vado ad aggiungere la media a 200 periodi. Ok? O meglio, vado ad aggiungere la simple moving average con i valori 20, 50, 189. Eseguo, vi rifaccio vedere il grafico, zoom, vedete? Ho aggiunto le tre medie mobili. La media a 50, a 20 periodi, la media a 50 periodi, la media a 189 periodi, ok? Che è il massimo che mi dà come valore, perché mi sembra che se qua scrivo 200 mi dà un errore. Ah no, accetta anche la 200, come non detto, mi ricordavo male. Mi ricordavo che accettasse fino a 189, invece fino a 200. Vedete ragazzi quanto è semplice, una volta che mi sono andato a prendere i grafici, i dati finanziari, li metto dentro delle variabili e attraverso l'utilizzo dei divettori vado a graficarmi e ad aggiungere anche addirittura delle medie sul grafico. Vedete che piano piano stiamo arrivando, stiamo aggiungendo i pezzi a questo nostro percorso lungo, necessario che ci porterà a creare un semplice trading system e poi a fare backtesting su questo trading system per diventare autonomi e crearci e testare da zero le nostre strategie di trading. Ragazzi un like se questo video vi è piaciuto, se questo percorso vi piace, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!